Ah, che splendida giornata che oggi, da TV Cioè, sembra che non c'è come l'inseguimento delle auto Ser, non c'è proprio che tengo i biscotti, vabbè, li tengo per me Che ser adesso, non sta più a casa mia per fortuna Perché ero un incubo, era per me Per farlo mangiare Vabbè, infatti, tutte queste cose devo togliere Ciao, Gino Dimmi, che c'è? Niente Ah, c'è niente? Che c'è? Perché? Oh Vabbè Comunque Domani, finalmente è arrivato il giorno Che Che tolgo le auto dal mio concessionario Finalmente, perché non ce ne facevo più Adesso arriveranno le auto che ordino io Finalmente, ciao Salio Salio Dimmi Guarda, guarda Guarda, guarda cosa sono spiato E il cappello? Ho preso Ho preso tanti Sessiti Sessiti Ma con quelli soldi, scusa Cosa? ma quali soldi? fai cacciare tutto cosa hai fatto? non è vero che cosa non è vero? ti roppo picco ma tu non vai al lavoro? come quali soldi ti sei andato? domanda vabbè lo scoprirò dopo tra qualche minuto tranne trovare il modo di farmi una passeggiata via via comunque stavo dicendo dopo di che cosa faccio? tolgo le auto del congestionario e le porto a quel francese e poi finalmente le auto delle poste ordinarie come ho detto adesso e in più posso modificare il congestionario come voglio che adesso il congestionario è senza nome vabbè la tiro nel... anzi la devi la tiro o comunque riesco al supermercato vorrei entrare al supermercato che ancora non ci sono mai andato tutti i biscotti per la dotorosa oppure le persone che... che c'è? buonasera c'è nessuno nessuno i biscotti usciamo iniziamo poco del... i biscotti i biscotti i biscotti i biscotti i biscotti ammi pane perfetto rosa 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 adesso una cosa ascoltami con quali soldi li spiegati? rosa alla fine con quali soldi li spiegati? caccia caccia la lingua i biscotti sono delle spiegati i tuoi allora allora non sono così guardata soldi 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 quali soldi li spiegati allora? i miei ehhh 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 ehhh